Ciao, io sono Francesco Agostino e ti do il benvenuto sul mio canale. Questo è il primo video che realizzo in favore dei vari social, Facebook, YouTube, eccetera. Non ti nascondo che per tali motivi mi sento leggermente emozionato, ma al tempo stesso molto molto entusiasta per poter finalmente divulgare e condividere con te quelle che sono le materie di cui mi occupo. Materie come la PNL, ovvero la programmazione neurolinguistica. Il coaching, la mindfulness, la comunicazione non verbale, l'antichissimo mesmerismo e infine la mia preferita, l'iprosi. Ho voluto realizzare questo video seguendo un doppio filone, quello di una semplice presentazione personale, ma in seconda battuta quello di lanciare una sorta di trailer di induzioni ipnotiche che io giornalmente effettuo con i miei assistiti. Le immagini che seguiranno potrebbero apparirti tra virgolette spettacolari, ma ti assicuro che dietro questa spettacolarità vi sono delle tecniche e dei protocolli efficacissimi e potentissimi, capace di risolvere alcune problematiche e di ripristinare lo status di benessere psico-emodino. Se sei un amante, un appassionato, un curioso di queste discipline, allora ti suggerisco di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Questo per non perdere i video successivi e gli aggiornamenti futuri. Nel box informazioni troverai tutti i miei contatti social e anche il link al mio sito web. Lì potrai andare a leggere i miei articoli dal mio blog, consultare i miei servizi, ma soprattutto visionare il calendario eventi. Per partecipare a uno dei miei eventi appunto, seminari, workshop, vari appuntamenti che io organizzo sia live che online attraverso dei webinar che spesso sono anche gratuiti. Non mi resta adesso che ringraziarti, ti lascio le immagini e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!